Giro di vite dalla parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico. Sindaco, una nuova ordinanza, di che cosa si tratta? La firma di quest'ordinanza che ho fatto questa mattina punta proprio a migliorare il decoro e la sicurezza della nostra città. Ci sono stati anche fatti di ordine pubblico molto gravi in cui queste bottiglie e contenitori di vetro venivano utilizzate per minacciare passanti o anche colpire gruppi di persone o in alcuni casi anche gli agenti di polizia locale. Quindi con questa ordinanza che di fatto vieta l'utilizzo dei contenitori di vetro dalle 18 alle 3 del giorno successivo, quindi dalle 3 di mattina, è un'ordinanza che per ora durerà fino all'8 di settembre, quindi per anche limitare l'utilizzo di questi contenitori e anzi vietarli durante le manifestazioni, quindi durante gli eventi, quindi comunque Fano è ricca di eventi e questa misura riguarda tutto il centro storico, tutto il lungomare e i parchi pubblici nei vari quartieri e anche nei 100 metri intorno alle scuole. Questa è una misura molto importante per limitare il degrado che comunque ci sono quando si verificano queste situazioni di bivacco continuo in queste zone. è un'ordinanza che viene punito con l'articolo 650 del codice penale, quindi di fatto gli agenti di polizia e le altre forze dell'ordine intimeranno il soggetto a gettare nei contenitori di vetro questi contenitori se verranno trovati dei trasgressori, se essi non risponderanno affermativamente ci sarà il sequestro del bene e la segnalazione al giudice e quindi anche la sanzione amministrativa fino a 200 euro o più l'iscrizione dentro il codice penale, quindi dentro ci sarà del penale. Quindi è una misura molto importante, molto anche rigida se vogliamo, che avevo promesso e che oggi ho firmato. Ci sono comunque delle eccezioni, gli operatori potranno utilizzare comunque i contenitori di vetro all'interno dei locali? Assolutamente sì, questa misura è stata condivisa anche con il tavolo economico, pertanto tutti gli esercenti, i commercianti di queste zone potranno tranquillamente vendere bottiglie oppure consumare bicchieri di vetro solamente però all'interno degli spazi pubblici adibiti, quindi le sedi e i tavolini in concessione ai privati. Ecco, quindi per le attività economiche non cambia nulla ma per chi è abituato a prendere la bottiglia di vetro e andarla a bere in piazza piuttosto che in alcune vie del centro storico, del lungomare, nelle spiagge libere, questo non sarà più consentito.